E Venturelli deve mettere in angolo questa palla di De Napoli Ancora il Parma in avanti, Barbuti tira il volo e rete Il Parma in vantaggio, bellissima questa azione del Parma Ora vedremo se il Rimini sarà capace di esplicarsi al meglio Gran tiro e gol! Gran tiro di Melotti e gol! Gran tiro di Melotti e gol! Al trentaseiesimo, quindi il vantaggio del Parma è durato appena due minuti De Napoli, la palla a Zanoni, riesce ad aggirare l'avversario Il gran tiro di Zanoni e la palla di poco alta sulla traversa Lo stop di petto del numero quattro riminese riesce a scartare il suo avversario Zanoni al limite dell'area, entra in area Zanoni In seguito Stoppani, c'è un rimpallo Si eleva molto bene De Napoli, palla che finisce Gaudenzi Tiro in rete! Ha segnato De Napoli, ha segnato Gaudenzi, scusate Bellissimo, c'è stata una papera tra i difensori della Parma Mariani, se ne va Mariani sulla fascia destra, pericolo per il Rimini Il cross al centro per Barbuti, colpo di testa alto sulla traversa Lancia per Nicolini, se ne va molto bene Nicolini ha superato il suo avversario Interviene Stoppani, De Napoli, finito De Napoli, rete! Ha segnato De Napoli Bellissima questa combinazione del Rimini, ora il Parma sembra proprio un ginocchio Ancora De Napoli, 3 a 1 il punteggio e siamo esattamente al 26esimo della ripresa Colpo di testa di Fabri, interviene Nicolini